Hey guys, bentornati in questo nuovissimo video, io sono JustTagger e oggi siamo qui ragazzoli finalmente per commentare una partita dei miei gemellati ovvero il Licata da una parte e il Marsala dall'altra che si sono sfidate nell'ultima domenica in cui anche il nostro Palermo purtroppo ha perso 3-1 in maniera meritata però ovviamente ragazzi prima di continuare a parlare di questo oggi doveva uscire un video, era uscito un video alle 15 di Outlast però poi ho ripensato subito guarda io il gaming è meglio lasciarlo perché diciamo non faccio tutte queste grandi visite inoltre il mio obiettivo non è guadagnarci perché alla fine non guadagno nulla infatti non ho partnership o robe del genere e poi comunque sto cercando un lavoro serio da affiancare questa mia passione poi YouTube stesso ma YouTube è un'altra cosa, YouTube è una questione di farsi apprezzare per quello che sei, infatti ho pensato dato che comunque voglio farmi conoscere per quello che realmente sono quindi una persona in un certo senso umile e onesta che non dice niente di grave, sono anche abbastanza sportivo su molti aspetti e ho deciso insomma di parlare più di calcio che di altro quindi il gaming l'ho definitivamente buttato via a parte magari qualche collaborazione, qualche video montaggio insomma che ci sarà su qualche insomma contenuto di gameplay divertente non farò chissà che cosa quindi fate conto che il gameplay ormai lo porterò al circa 5-10% se dovresti fare una scaletta da 1 a 100 quanto dovrei portare in gaming qua nel mio canale quindi porterò soltanto sport, porterò qualche video act, le parodie ci saranno sempre quindi non vi preoccupate ragazzi ovviamente lo sport soprattutto le storie calcistiche e questo ovviamente parliamo di calcio giocato che sono le mie serie ci saranno sempre definitivamente quindi ragazzi detto questo spero che abbiate insomma apprezzato quello che vi ho detto quindi non ho nulla a nascondere adesso iniziamo a parlare di Licata Marsala, Licata Marsala vittoria per 4-2 per i giallo-blu di Mister Campanella che hanno meritato soprattutto grazie alle individualità di Convitto da una parte e Cannavò dall'altra che hanno comunque regalato una vittoria abbastanza importante per il Licata per rilanciarsi in zona playoff quindi complimenti a Licata, dispiace per i fratelli marsalesi ma i fratelli marsalesi con tutto il rispetto diciamo che a livello tecnico sono molto inferiori rispetto a Licata anche se ieri comunque con una prova abbastanza diciamo arrogante in un certo senso ovvero quella di provare a vincere, provare a segnare e mettere in difficoltà il Licata ci hanno provato però senza alcun successo inoltre la settimana scorsa hanno esonerato l'allenatore, molti giocatori vogliono andare via e guardando questo Marsala adesso confrontandolo con quello dell'anno scorso mi sono accorto che il Marsala di prima era molto più forte quest'anno hanno confermato se no 3-4 giocatori e se ne sono andati gli altri tutti via proprio perché magari alcuni hanno degli obiettivi diversi rispetto al Marsala e a me dispiace perché comunque hanno lanciato giocatori tra cui uno di questi Patricevra che poi passò insomma al Manchester United e poi alla fine alla Juventus quindi diciamo che è anche un buon settore giovanile è una squadra che ha militato pure in Serie C, ha sfidato il Palermo e molte volte l'ha messa pure in difficoltà quindi diciamo che è una squadra che all'organico comunque se lo può creare tranquillamente il problema è che nelle province bisogna metterci i soldi e questa è la cosa importante il Licata invece al contrario ha fatto una cosa importante ha confermato la maggior parte dei giocatori che hanno fatto la promozione dell'eccellenza alla Serie D quindi tanto di cappella al Mister Campanelli e al Presidente dell'Icata e molti giocatori li hanno abbinati ad altri giocatori esperti togliendo assenso che comunque l'hanno ceduto e sicuramente cercheranno un altro attaccante comunque hanno una squadra e un organico abbastanza forti infatti Convitto e Cannavò in questa Serie D comunque fanno faville segnano cose che comunque il Palermo allo stesso tempo fa perché il Palermo come il Licata ha delle individualità importanti e infatti la maggior parte di queste partite vengono vinte e vengono insomma regalate in un certo senso perché il Palermo alcune volte come il Licata vincono anche in maniera facile seppur per 1-0 o 2-0 con un minimo di sofferenza però riescono a vincere insomma grazie alle individualità dei giocatori stessi inoltre il Licata ha pure un bel gioco perché Mister Campanella è un allenatore che già da qualche annetto tra cui anche ex giocatore del Licata della Serie B quella famosa promozione ha riuscito a dare diciamo un'impronta di gioco alla sua squadra e devo dire che sta facendo molto molto bene inoltre hanno dei giocatori come Enea, Dama quindi sono dei giocatori comunque esperti della categoria in molti anche palermitani che stanno facendo molto bene quindi non posso che essere contento per il Licata il Licata secondo me come ho già detto è ancora in zona playoff per noi peccato porca miseria ieri mi avevano scritto molti di così il Licata eh se vincete con la Cireale siamo terzi ovviamente ragazzi ricordiamoci che sono 4 i posti per i playoff è chiaro che è difficile però il Palermo deve andare via insomma da questa categoria poi mi auguro che una tra Savoia, Cireale e Licata soprattutto il Licata che sono i nostri fratelli riescono insomma a passare i playoff e andare in Serie C insieme a noi a livello tecnico mi dispiace insomma per il Marsala che secondo me quest'anno dovrà ambire insomma per la salvezza mentre il Licata sicuramente sarà insomma tra le medio-alte che meriterà sicuramente qualche posto anche in zona playoff non scordiamoci che quando sono venuti al Barbera ci hanno messo in chiara difficoltà forse è stata l'unica big insieme forse alla CR Messina e il città di Messina se vogliamo metterla come big che diciamo siamo riusciti a battere a Renzo Barbera e anche comunque in trasferta quindi sono delle squadre che sì abbiamo battuto ma Savoia e Cireale hanno battuto il Palermo in casa e quindi i scontri diretti soprattutto per i gol subiti pontano quindi alla fine del campionato ovviamente tireremo le somme e vedremo un po' dove saremo inoltre il Licata ha fatto comunque sta facendo un ottimo campionato io spero che la squadra trovi degli innesti importanti lo stesso il Marsala che tra i sonori allenatori i giocatori stessi che se ne vogliono andare via danno insomma altre ambizioni io mi auguro che il Marsala quest'anno possa salvarsi per poi progettare l'anno prossimo magari con un futuro un po' più roseo molti dicono che in Serie D le squadre siciliane come il Licata e il Marsala dicono che in queste cittadine qua le squadre sono in un certo senso morti il calcio è morto ma in realtà secondo me il calcio sta risorgendo in Sicilia soprattutto squadre come il Licata come la Cireale che ci ha messo in difficoltà e ci ha pure battuto sono squadre che secondo me a livello di competizione se la possono contendere fino alla fine il campionato magari il Licata a livello difensivo sarà un po' più deboli rispetto che ne so a un Savoia o una Cireale però a livello di attacco secondo me è uno tra i più prolifici di questa Serie D ricordiamoci che l'anno scorso in eccellenza hanno fatto più di 90 gol quindi non stiamo parlando insomma di 30-40 gol in un campionato dove ti sei difeso alla grande qua si sta parlando di un attacco veramente forte basti pensare con Vitto e Cannavò insieme a un altro giocatore che è Davide Testa che non c'è più hanno fatto un sacco di gol avranno fatto tipo 20 gol, 30 gol ora non voglio esagerare in 3 quindi voglio dire è una squadra abbastanza attrezzata per questo campionato ricordiamoci che è una di quelle squadre che ha speso di meno in questo campionato e ha abbinato insomma quei pochi giocatori e ha abbinato quei pochi giocatori che doveva acquistare con altri giocatori che sono stati promossi dall'eccellenza alla Serie D con la stessa squadra quindi l'organico è stato confermato dall'eccellenza alla Serie D molti sono stati sceduti ovviamente per fare cassa e hanno preso dei giocatori esperti per questo campionato io ho finito insomma il mio commento ditemi voi cosa ne pensate spero che per il Marsala i tifosi marsalesi capiscano e spero che riescono a fare una buona campagna acquisti per difendersi bene e quindi salvarsi e magari togliersi dalla zona play out e puntare magari al centro classifica magari per pensare più avanti a un progetto un po' più importante piuttosto che a una salvezza e insomma una classifica un po' così che secondo me la città di Marsala non merita quindi ragazzi ditemi voi cosa ne pensate e noi ci becchiamo come sempre al prossimo video e ovviamente sempre Forza Palermo Bella